E' una delle cose meravigliose in quei primi anni, insomma, in cui è esploso all'Inter, però l'hanno caricato di una serie di responsabilità poi durante la sua carriera, specialmente poi a Manchester, di una serie di responsabilità di... che poi forse lui non è in grado di gestire. Era come la regina del celebrità, no? E' un po' la regina del celebrità.